Pobre buonasera, oggi parleremo di 8 cibi che migliorano la nostra vista. Iniziamo. L'olio di oliva ricco in omega 3, omega 6 e vitamina E. L'olio di oliva aiuta a prevenire la secchezza oculare e la degenerazione maculare senile. Un altro alimento sono le carote o per essere un po' più precisi il beta carotene. Le carote non sono l'unico ortaggio a favorire la vista, infatti è l'alto il contenuto di carotenoidi come appunto il beta carotene che fa bene e questo si trova anche in altre verture arancioni, gialli e rosse. I carotenoidi vengono trasformati in vitamina A, conosciuta anche come retinolo, proprio perché ottima per la retina. La vitamina A migliora la visione notturna, oltre ad aiutare a prevenire la sindrome dell'occhio secco e la degenerazione maculare. Il terzo alimento, il salmone, contiene omega 3, come abbiamo detto, è uno degli acidi grassi essenziali per prevenire problemi come la degenerazione maculare senile e la retinopatia. In genere, gli stessi grassi sono presenti nella maggior parte del pesce azzurro come lo sgombro, le sardine o l'orata. Un altro alimento è il kiwi, che è ricco di vitamina C, quindi acido assorbico, che ha potenti proprietà antiossidanti, quindi antiinvecchiamento. Il kiwi, in particolare, ne contiene tantissima, ma anche altri frutti come il pompelmo, l'arancia e i vari agrumi presentano la stessa vitamina C, capace di stimolare la produzione di collagene, che aiuta a mantenere in forma i muscoli del bulbo oculare e a facilitare la funzione dei vasi sanguini. Il rischio di malattie degli occhi, come la cataratta e la degenerazione maculare, viene quindi diminuito. Il quinto alimento sono le noci, quindi tutte le noci, parliamo di nocciole, mandorle, arachidi, sono fonte di vitamina B e E, oltre ad essere ricchi di grassi omega 3 e minerali antiossidanti, che proteggono le cellule dell'occhio come il selenio e lo zinco. Aiutano a ridurre il rischio di cataratta e a prevenire problemi legati alla macula. Il sesto alimento sono gli spinacci, così come tutte le verdure a foglia verde, per esempio i cavoli, la bietta, il sedano, sono pieni di vitamina A e forniscono luteina e zeaxantina, che sono due antiossidanti contenuti anche nella stessa retina e dal cristallino. Quindi anche queste verdure aiutano a prevenire la secchezza oculare e rafforzano gli occhi contro l'effetto dei raggi del sole. Il settimo alimento sono le bacche. Le bacche, oltre ad essere deliziose, sono alimenti molto sani perché contengono flavonoidi, che sono pigmenti naturali che combattono i radicali liberi, ossia le molecole che causano l'invecchiamento delle cellule oculari. Così ogni volta che mangi mirtili, lamponi, more, fragole, ringiovanisci la retina e migliora la salute degli occhi. L'ottavo alimento è il latte. Il latte, ricco di vitamina A, rafforza la congiuntiva, la membrana che copre l'interno della palpebra del bulbo oculare. In più, aiuta a combattere la fotofobia o l'intoleranza alla luce. Dunque non c'è modo migliore di iniziare la gelata con un buon bicchiere di latte. Oltre a nutriti in modo sano per prenderti cura della vista al meglio, ti suggerisco di consultare regolarmente il tuo ottico e a fare un test almeno ogni due anni. Spero che il video vi sia piaciuto. Non dimenticate di lasciare un like, di seguirmi su Instagram, Facebook, Youtube, TikTok. Visitate anche il sito www.gianina.it. Troverete tantissime diete per tutte le problematiche, per tutte le gioie della vita. E chi vuole essere seguito da me in Dieta Gianina può mandarmi una mail info.dietagianina.gmail.com E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Like!